Ragazzi, passate da Eneba.com per avere a un prezzo stracciato PSN Card e Microsoft Card per le vostre spacchettate sui football e tanto altro sul mondo videoludico. Non facciamoci fregare dagli store delle nostre console con prezzi molto molto più alti e acquistiamo tutti tramite i link che trovate in descrizione. Compra anche tu su Eneba.com Bella ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Simo Play, oggi siamo di nuovo insieme per parlare di football 2023. Oggi il Dream Team si è aggiornato, ci sono novità, ci sono nuovi pacchetti e c'è una leggenda in regalo, l'ultima delle quattro leggende garantite che sono state appunto regalate a tutti quanti. Prima di andare avanti invito a iscrivervi al canale, attivare la campanella per non perdere tutti i prossimi contenuti e a lasciare un bel mi piace per supportarmi. Ragazzi, mi raccomando, questa parte è fondamentale, quindi non andate avanti senza lasciare l'iscrizione con la campanella attivata e senza lasciare il mi piace, che aiuta tantissimo l'andamento di questo contenuto. Non perdiamo ulteriore tempo e andiamo a vedere subito quali sono le novità di oggi. Questo non sarà un video molto lungo perché non ci sono tante novità, ma quelle che ci sono a livello di contenuti, a livello di carte nuove, so che a molti di voi non interessa, però io parlo alle persone a cui interessa questo tipo di contenuto. Dicevo, ci sono carte veramente interessanti, forse non arrivavano carte così interessanti da tanto tempo. Allora, innanzitutto, come già detto, c'è una leggenda gratuita. Ovviamente io le ho prese tutte, mi manca Del Piero, quindi andando a fare ingaggia uscirà chiaramente Del Piero e ci vediamo questa animazione di Alessandro Del Piero, ragazzi. Carta che chiaramente poi andremo a provare nel prossimo episodio di Road to Glory, che uscirà oggi alle 18, ragazzi. Quindi non vedo l'ora, non vedo l'ora di andare a provare questo giocatore. Eccolo qui, Del Piero. Secondo me ci sorprenderà, secondo me sarà estremamente interessante. Poi come l'ho livellato, come lo livellerò, ve lo faccio vedere nel Road to Glory di stasera, quindi un attimo di pazienza. Ma, a parte questo, ci sono altre novità. Pacchetto Brasile, giocatori epici, tanta roba. Con all'interno Zico Big Time, con esultanza speciale. Ricordo a tutti che le carte epiche e big time sono la stessa cosa, regà. Anzi, le carte big time non si chiamano solo, perché qualcuno di voi ha detto, eh, sono diverse. No. Le carte big time si chiamano carte epiche big time. Quindi è sempre una carta epica, ma in più non ha che è più forte, assolutamente. Ma solamente l'esultanza speciale è quello che ha in più, ragazzi. Tutto qui. Tutto qui. Ecco cosa vuol dire big time. Comunque, c'è Kakà, versione epica. C'è Zico, versione epica, big time. E c'è Roberto Carlos, versione epica. Io premetto che non aprirò questi pack, perché troppi soldi, regà. Non è che li posso aprire tutti i pack, è vero che è vero. Però, comunque, vi dirò la mia sui giocatori che ci sono. Andiamo a dare un'occhiata, chiaramente, a quello più interessante, secondo me, che è Zico. Tanta roba, 25 livelli. Chiaramente arriva a 98 di overall, con i bonus arriva a 100. Ragazzi, beato a chi lo prende. Chiaramente come trequartista sarebbe tanta roba. Magari faccio 3-4 giri e mi esce, non lo so. Ma non voglio spenderci soldi, quello è il punto. Voglio spenderci tanti soldi. Kakà, versione epica, ragazzi, 35 livelli per lui. Lui dovrebbe arrivare a 97 di overall, comunque, con il bonus tocca quota 100. Forse questo, a livello di statistiche basse, devo dire che è anche leggermente più interessante rispetto a Zico. Quanto mi piacerebbe provare questo giocatore. Tanta roba, davvero. E poi c'è Roberto Carlos. Vabbè, lui è uscito anche in altre versioni. È un ottimo terzino, ma personalmente non si addice al mio stile di gioco. Un terzino più offensivo viene utilizzato quasi come centrocampista, perché attacca molto bene. Non sto dicendo che difende male, è assolutamente. Anzi, è abbastanza buggato come giocatore. Però è meglio in fase offensiva che in fase difensiva. Almeno su questo gioco, ragazzi. Su questo gioco. Perché poi, nella realtà, era ottimo anche a difendere. Andiamo a vedere anche le altre novità. Le altre novità che ci sono appunto nel gioco, perché ci sono altri pack. Ci sono anche degli eventi, ragazzi. C'è questo pack di Player of the Week del 5 gennaio, appunto, di oggi. Con all'interno questi giocatori che adesso andiamo a vedere. C'è Lewandowski. Ah, questi ovviamente non si possono livellare. I Player of the Week verdi sono già al massimo del loro overall. Non ci sono livelli. Lewandowski, 100 di overall, ragazzi. Anche in questo caso è una raccolta dei migliori Player of the Week che già sono usciti. Cioè, ragazzi, come potete vedere, aprendo i singoli giocatori. Il pack è di oggi. La raccolta è di oggi, di questo pack. Però, come potete vedere, ad esempio, Lewandowski, Player of the Week del 15 settembre 2022. Questo, Player of the Week, dell'8 settembre 2022. De Paul è interessante, 15 settembre 2022. Questi sono tanti giocatori che sono usciti in passato e hanno fatto una raccolta dei migliori giocatori, ragazzi. Lo hanno fatto anche in precedenza. Io ho preso un Bappé. E, insomma, ragazzi, c'è Raffaele Au che sicuramente può essere interessante. Questo può fare pure la prima punta. E, insomma, fatemi sapere nei commenti, ovviamente, quali giocatori di questi vorreste. Quali giocatori vorreste vedere testati nel mio Rottuglori. Perché sono tanti e, di certo, non possiamo prenderli tutti. Questo è certo, ragazzi. Questo è certo. Poi, andiamo a vedere se ci sono altre novità. Qui non ci dovrebbe essere nient'altro. I contratti mirati ancora non li hanno modificati, ragazzi. Quindi, rimane il poll di David Villa. Rimane il poll di Messi. Epico, big time. Scusate. Anche poi sono sempre carte epiche, come già detto. E andiamo a vedere se c'è qualche novità nei pacchetti. Perché lo sto vedendo per la prima volta insieme a voi, ragazzi. Quindi non so se ci sono novità nei pacchetti. No, no. Dovrebbero. Allora, c'è da dire che tra sei giorni terminano i pacchetti, eccetera, eccetera. Anche perché tra sei giorni, ovviamente, sette giorni praticamente termina la fase. Quindi si ricomincia anche il campione di football. E dovrebbero esserci nuovi pacchetti anche, ragazzi. Quindi ci siamo quasi all'arrivo dei nuovi pacchetti. Se volete comprare questi pacchetti vecchi, affrettatevi. Perché tra sei giorni, come già detto, tra sei giorni e mezzo verranno tolti. Allora, qui non c'è nient'altro. Andiamo a vedere chiaramente negli eventi. Perché ci sono novità per quanto riguarda gli eventi. Ok. Allora, questo qui sicuramente è nuovo, ragazzi. E ti dà un accordo al buio per la raccolta dei migliori giocatori Player of the Week. Quella che vi ho fatto vedere prima con le carte verdi. Chiaramente è un evento normalissimo, come tutti gli altri che ci sono stati, ragazzi. E si vince niente. Solo l'accordo al buio è un 40.000 GP scarsi. E contro l'intelligenza artificiale. Poi, di nuovo International Cup Under 2100, ragazzi. Con il Team Limit. Dovete mettere 18 giocatori di una di queste nazionali, ragazzi. E ovviamente è sempre la stessa roba. Si vince, ma ho fatto entra per sbaglio. Però volevo farvi dire che si vince. Mi fa tornare indietro. A parte le 50 monete, si vincerà qualcos'altro, come sempre. Appunti e la sfida. 10.000 GP, 30.000 GP, 50 monete, ragazzi. E poi c'è questa qua che è senza il limite di forza squadra. E la rinnovano sempre. Sta diventando un po' ripetitivo questo fatto, eh, ragazzi. Dovrebbero cambiare un pochettino. Anche in questo caso i premi sono gli stessi. Poi, Worldwide Claps. Andiamo a vedere un po' di che si tratta. Questo chiaramente è partita utente. Come sono partite utente le sfide dell'International Cup. Questo è chiaro. Tra l'altro dovrebbero essere le ultime sfide dell'International Cup, ragazzi. Queste qui, tra l'altro. Poi dovrebbero cambiare. Cioè, sicuramente cambieranno. Allora, in quest'altra sfida contro utente. Prima volta 10.000 punti esperienza. Seconda sfida 10.000 punti esperienza. Questa terza sfida 10.000 punti si vincono solo punti esperienza. Un po' misero come evento. Questo già c'era. E poi, questo qui. Questo qui, che non è nuovo. C'è già dal 29.000. Ma termina insieme agli altri eventi che sono stati inseriti oggi, ragazzi. Quindi, se volete fare questo evento che vi assicura un po' di GP. Mi raccomando, entro sei giorni. Mentre l'evento della League termina entro tre giorni. E direi che probabilmente non c'è più nulla da vedere. Vogliamo andare un'occhiata, diciamo. Ma Match Pass è sempre quello. Andiamo a vedere al volo se ci sono giocatori nuovi nei punti football. Andiamo a vedere, però, sinceramente. Ho i miei dubbi, eh. Ho i miei dubbi. Infatti, sono sempre quelli, se non erro, ragazzi. Sì. Se non erro, sono sempre quelli, ragazzi. Quindi, niente novità. Anche nei punti football. Non ho visto nulla di nuovo. Poi, se mi è sfuggito qualcosa, ovviamente, ditemelo nei commenti. Io sono umano. Posso anche sbagliare. Mi può anche sfuggire qualcosa. Detto questo, direi che possiamo, in futuro, sperare in qualcosa di diverso. Perché, come già detto, belli gli aggiornamenti. Belli le carte. Bello tutto. Però, dopo un po' uno si scoccia anche un po'. E per quanto riguarda, invece, le carte, tanta roba. Cioè, quegli epici, Big Time del Brasile. Zico, Kakà. Secondo me, tantissima roba. Beh, ragazzi. Io direi che per questo video può bastare così. Fatemi sapere nei commenti che ne pensate. L'aggiornamento dei contenuti del Dream Team di oggi. Fatemi sapere se aprirete i pack Brasile. Quindi, se punterete ad avere in squadra Zico o Kakà. Nel caso in cui l'abbiate già fatto, chiaramente, ditemi nei commenti se avete trovato qualcuno. E nel caso, chi avete trovato. Fatemi sapere anche se aprirete i pack Player of the Week. La selezione dei migliori Player of the Week che hanno rinnovato di nuovo. Perché prima ce n'era un'altra con Bappé. E lo abbiamo anche preso. C'era Allan, se vi ricordate. Insomma, come già detto, speriamo le carte belle. Tutto bellissimo, tutto fantastico. Ma ci servono nuovi contenuti. Altrimenti, qui, ci annoiamo. Tra qualche giorno, tra sei giorni e mezzo, precisamente, finirà la fase. E speriamo in qualcosa di nuovo, di frizzante e di più divertente. Io vi ringrazio per essere stati miei compagniani. Noi ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio e un saluto. Alla vostra prossima play. Bella ragazza!